La macchina che è stata premiata oggi con un premio New Technology è un'attratrice SM20 idrostatica, 4 rotte motrici, pensata per raccogliere i risidi delle potature e trinciarli. È una macchina pensata per una raccolta veloce, per un percorso di tipo industriale, quindi raccolta a basso costo per andare a produrre del materiale, raccogliere il materiale che poi va direttamente in centrale o in compostaggio. La macchina è formata da delle spazzole anteriori che aiutano a raccogliere il materiale e parallelamente leggono il terreno e quindi regolano poi l'altezza del piccato in funzione delle condizioni del terreno stesso. Il materiale viene raccolto, passa per un mulino e finisce nel cassone. Il cassone ha una capienza di 4 metri cubi. Il cassone può essere sollevato a 4 metri. Con una sporgenza di 2 metri permette di caricare il materiale direttamente all'interno dei grossi cassoni contenuti. La macchina fa parte di un percorso di sviluppo che abbiamo avviato qualche anno fa, dentro cui noi siamo interessati a raccogliere e a rivoluzionare le potature delle vite, ma anche della frutticoltura. Il percorso era cominciato qualche anno fa con un'imballatrice che raccoglie il materiale, produce piccole ballette, ballette che poi una volta asciugate possono essere trasformate, possono essere bruciate tal quali o possono essere trasformate in cippato, in pellet o in bricchetti. Grazie a tutti!